E lui stesso, senza conoscere Pinochet, o sia senza conoscere chi era veramente Pinochet, perché Pinochet era un leccaculo. La gente le schifava gli atteggiamenti di Pinochet, si, signor Presidente, si, signor Presidente. Leccaculo. Per esempio, se doveva uscire dall'ufficio la gente, Pinochet mica, quasi correva all'attaccapanno a prendere il capotto e a metterlo, capito? E la gente dice, ma cazzo, mi dà fastidio. Non lo sopporto più. Grazie a tutti.